o se si ragazzi benvenuti in questo nuovo video della 1.6 di minecraft oggi vi mostrerò tutte le novità principali allora ma prima di parlare di minecraft volevo capire un po' la faccenda portal 2 cioè non frega nessuno di portal 2 cioè volevo capire come fosse possibile comunque non è di questo che volevo parlare una volta finito portal 2 secondo voi che cosa dovrei fare ok adesso cominciamo con le novità della 1.6 la principale cioè non proprio la principale però una che hanno aggiunto niente niente più sono preoccupato sentivo uno zombie morire è il lead è un guinsaglio che potrete portare in giro il vostro cagnolino o tutti gli altri mob passivi mi raccomando non i testificate e neanche i creeper c'è i mob passivi come creeper zombie si alontanerete e si romperà ma non vi preoccupate non l'avrete perso sarà droppato vicino al vostro animale e sapete questo che significa che potremmo giocare all'impiccato con un maiale signor maiale e la sua risposta definitiva non ne sono sicuro bom cosa? io mi chiamo boom e adesso muoia ecco grazie oppure potremmo fare delle giostre per far addormentare i piccoli testificate poi passando avanti hanno aggiunto dei nuovi blocchi anzi non hanno aggiunto uno modificato dei blocchi il blocco di carbone l'hanno aggiunto e il blocco di lapislazzoli che già c'era però gli hanno messo il bordino insieme al blocco di carbone hanno cambiato la texture della carbonella infatti se scriviamo karch coal char coal vedrete che questa qui è la carbonella e se invece scriviamo coal questo qui è il carbone normale ok scusate questo libro non è niente quel libro anzi vi dico anche una cosa se gettate un oggetto contro un cactus questo si autodistruggerà se riesco però ecco come avrete notato l'unità che hanno aggiunto principale ma davvero della 1.6 è la horse sono gli orsi gli orsi i cavalli questi cavalli si possono domesticare ecco questo qui è un puledrino piccolo che non serve a niente muori e questo qui è un cavallo grande si possono addomesticare come addomesticarli dovrete salirgli in groppa vedete che lui vi butterà giù quando non vi butterà più giù significa e farà i cuoricini significa che vi siete appezionati adesso lui sta cercando di buttarmi giù ma non può perché io sto guardando nella sua stessa direzione si però ah ecco vedete si ha addomesticato non ha fatto i cuori come so che si ha vabbè comunque per fare si si ha addomesticato perché vedete è uscito scritto press left shift shift left shift la pecora sinistra dunque per aiutarvi ad addomesticarli potete dargli del cibo oppure delle mele d'oro giusto gold apple vedete che lui le mangia adesso io passo in survival in modo 0 per far vedere che questo cavallo ha anche una vita però io adesso non posso pilotarlo questo cavallo e non si è ancora addomesticato mangia ancora mele d'oro ah giustamente gamme mode 1 prendo qualche mele d'oro mi fai scendere please lo so che stai tentando di buttarmi giù allora gold apple gold apple gold apple gold apple allora food prendo un bel po' di gold apple no ok perfetto te le do mangia e non fare storie oh guardate questo cavallo quanto sta mangiando adesso devi addomesticarti domesticati no non è addomesticato come fa un altro modo per sapere se si è addomesticato a parte che fa i cuoricini ecco vedete e poi premendo e potrete accedere al suo inventario solo che è molto scomodo perché io per adesso per metterci la sella perché ho attivato il maiuscolo vabbè faccio così ok dovrete mettergli una sella all'inizio avevano deciso di introdurre una nuova sella per i cavalli ma poi hanno deciso di mettere questa qui oltre a questa avrete notato che esistono anche due slot questo slot è per le armature infatti adesso se io cerco andiamo in se io cerco horse armor verrete che ci sono queste armature che non si possono craftare si trovano nei dungeon comunque avrete visto che oltre al cavallo c'è c'è questo spazio qua a destra vuoto che nei cavalli non serve a niente adesso faccio fare un giro a questo cavallo e poi vi spiego il concetto degli asini non sto scherzando ragazzi si guardate il cavallo il cavallo di suo salta automaticamente un blocco ecco vedete però se voi tenete premuto la sbarra la vedete questa barretta rossa si più andrà in alto più il cavallo salterà quindi può arrivare a saltare fino a due a due blocchi anche fino a due fence guardate non so perché da soli questi non lo possono fare comunque ecco vedete ho saltato tre blocchi e di cui uno era una fence ciao maiale ah comunque c'è un bug di queste di questi cosi qui i guinzagli è che se tenete un animale in aria lui subirà danno appena toccherà terra anche se non è caduto da così tanto però lui conta come se il maiale stesse sempre cadendo quindi se io adesso togliessi questo guinzaglio il maiale morirebbe tu vieni qui e non scappare allora adesso cerco di far spawnare un asino orse allora cavallo cavallo bianco bellissimo eccolo un pulegrino però questo ah eccolo qui una ah no è un cavallo 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 eh peccato vabbè farò crescere il maialino comunque gold apple si possono far crescere dando anche cibo guardate quanto da la mela d'oro e ehm guardate il grano quanto da da pochissimo davvero guardate cresce lentissimo forse è già cresciuto si è cresciuto anche questo va domesticato come il cavallo infatti si è domesticato subito adesso prendo un'altra sella però al mulo all'asino non va inserita l'armatura ma può essere utile e non 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 fa neanche chissà che salti eh però può essere inserita una chest non una trapped chest infatti se ci cliccherete sopra con la dovrete cliccare sopra con la trapped chest non succederà niente ehm vi mettiamo la chest normale ecco vedete sembra una una cosa di voltosa che una chest gli attraversa tutto il corpo comunque lasciamo stare queste erano le novità dei cavalli adesso partiamo alle novità meno importanti la più importante delle meno importanti per me è che da adesso in poi minecraft sarà progettato per java 6 e non java 5 questo significa che action mi lascerà in pace una volta per tutte una volta per tutte tu che hai da grugnire muori non sei degno di vivere comunque passiamo all'altra novità meno importante prendiamo una barca e un minecart allora non solo con i cavalli ma proprio per scendere da tutte le parti non dovremo più cliccarci sopra infatti credere mi sto cliccando se non ci credere faccio anche sentire il suono ma dovremo premere shift così vale anche per i minecart posso mettere un minecart sotto a te o no guardate ho premuto shift scusate io sto cliccando sopra sentite non succede niente devo premere shift adesso niente le altre unità sono meno importanti e che gli zombie hanno giunto giusto in creativa non vi attaccheranno più i zombie ah giusto una novità davvero importantissima che ora potrete piazzare blocchi sull'acqua si esattamente sto dicendo sull'acqua mi sono sbagliato sono gli animali che potete far spawnare sull'acqua adesso prendiamo un maiale devo farlo spawnare in acqua invece prima nelle precedenti versioni devo andare sott'acqua e cercare un blocco per poi farlo spawnare lì invece da questa faccia in poi potrete far spawnare i vostri animali direttamente in acqua poi 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 gli zombie adesso non mi attaccano perché sono in creative appunto i mob non vi attaccheranno più in creative i creeper non esplodono più in pratica siamo ritornati come nella come niente non siamo ritornati in niente tranne gli enderman ho scoperto tranne gli enderman ragazzi l'ho scoperto adesso ok quindi direi che le novità non sono finite però sono di poca importanza il resto se dovrei mettermi a elencare quello che ho aggiunto ogni singolo snapshot ci metteremo delle ore e io non ho tantissimo upload quindi mi prendo queste bistecche di maiale e ciao